Il progetto 50x50 capitale al quadrato di Pesaro 2024 varca la soglia di aprile e lo fa con un passaggio di testimone, quello da Gabice Mare che traghetterà il progetto fino a Pasqua, quello che di Monte Calvo in Foglia che lo riavvierà da Pasquetta. Apriremo la settimana, la nostra settimana della cultura con il passaggio del testimone, con la cicloturistica di Gabice. Gabice termina la sua settimana il 31 marzo, il primo aprile sarà alle ore 11 all'interno del borgo di Monte Calvo per il passaggio del testimone e riceveranno un'accoglienza con degustazioni di piatti tipici da parte della Proloco. L'arte del territorio sarà elemento fondante della settimana da capitale di Monte Calvo. Avremo due mostre, una a Cagallo dal maestro Giulio Serafini che avrà in esposizione delle opere di arte calcografa che nella sua attività sono state commissionate da artisti importanti, marchigiani. Poi abbiamo nel capoluogo a Monte Calvo in Foglia, proprio Monte Calvo all'interno del borgo, un'altra mostra del maestro Giancarlo Sardella. Inoltre in località Casino Sole verrà aperta la casa del giornalista Gian Battista Vicari Busetto, un noto giornalista che ha diretto un caffè letterario, il giornale letterario che si chiama Il Caffè. Non solo luoghi della cultura tradizionale ma anche ristoranti o attività che diventeranno teatri musicali o salotti di presentazione di libri. Abbiamo coinvolto anche tutti i nostri esercizi commerciali e turistici che si sono trasformati in palcoscenico per ospitare quegli eventi che magari andavano fatti in un teatro, avverranno all'interno di questi locali. Non ultima la spiccata vocazione naturalistica del territorio di Monte Calvo con Agriturismo e Osila Badia e Cavirginia Bike Hotel, attori protagonisti di escursioni e passeggiate ecologiche. Siamo molto felici di come Monte Calvo ha interpretato questa settimana la Capitale perché integra la perfezione, quello che è il programma da Capitale che si svolgerà a Pesaro in quella settimana in puro spirito 50x50 viene riproposta anche in due appuntamenti il Cosa c'è DOP che sono questi aperitivi in due locali del comune in cui osterie e bar diventano anche avamposti di informazione rispetto a quello che accade nella Capitale, in particolar modo Monte Calvo con la settimana ma in generale e soprattutto attraverso le DOP e gli altri prodotti certificati della nostra filiera agroalimentare ci sarà la possibilità di fare aperitivi alternativi e soprattutto accorciare quella filiera di consumo tra gli agricoltori, produttori e il pubblico grazie anche all'apporto dei bar e dell'osteria.